ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi punto it continuiamo a parlare di after effect e lo facciamo quest'oggi parlando della luminanza nelle scorse lezioni abbiamo visto come creare generare la trasparenza sfruttando le maschere il chroma key quindi i green screen il blue screen ricordate e oggi invece vedremo come sfruttare l'informazione della luminosità del singolo pixel che compone un'immagine per decidere quale porzione di immagine deve essere opaca oppure trasparente in altre parole i pixel bianchi saranno opachi e quindi non lasceranno passare l'informazione i pixel neri li utilizzeremo per decidere che quella porzione di immagine deve essere invece trasparente quindi lasciar passare l'informazione e faremo qualcosa di simile a quello che state qui vedendo una signorina che si muove in maniera molto aggraziata e uno sfondo un po' a fantasia con delle luci sfocate sullo sfondo in realtà questa immagine in origine era molto diversa era questa una bellissima immagine per carità al tramonto ma le lucine chiaramente non ci sono dove sono come potete vedere sono nel livello sottostante quindi il primo livello la da la ballerina va a nascondere il secondo livello che è questo appunto delle delle lucine sfocate io devo decidere voglio decidere che la parte scura di questa immagine sia trasparente ok mentre la parte più luminosa sia opaca ok chiaramente non su questa immagine qui ma sull'immagine sottostante ok detta così è un po complicata ve lo faccio capire con un esempio pratico vado a creare un nuovo livello livello tinta unita il colore indifferente lo chiamo sfumatura ok e applico a questo livello lo abbiamo visto già in passato qualche lezione fa l'effetto genera scala sfumatura ok cosa cosa sto cercando di creare sto cercando di creare una scala ok di colore che vada dal nero al bianco il nero sarà un informazione che mi indica che questa zona dell'immagine dovrà essere trasparente il bianco invece mi andrà ad indicare che questa porzione d'immagine dovrà essere opaca vado ad applicare le mie lucine al livello sottostante in altre parole porto il video delle lucine sotto al livello della sfumatura e adesso voglio che le mie lucine ok questa immagine sia trasparente basandoci sull'informazione di luminosità contenuta nel livello sfumatura in altre parole voglio che questa immagine delle lucine sia trasparente qui dove c'è il nero quindi in alto e opaca qui dove è bianco come faccio per creare questo effetto per decidere quale porzione del video delle luci deve essere opaca o trasparente sfrutto questa informazione e sfrutto questa colonna della composizione chiamata eccola qui mascherino traccia se non vedete questa colonna assicuratevi di aver acceso questo bottoncino qui in basso a sinistra eccolo qua espandi o comprimi il pannello controlli trasferimento assicuratevi che questo bottone sia acceso e vi comparirà subito la colonna del mascherino traccia ok imposto il mascherino traccia della traccia del livello delle lucine in questo caso in maniera tale che prenda l'informazione della luminanza dal livello sfumatura guardate cosa accade ok apparentemente abbiamo ancora il nero sopra e sotto vediamo le luci ma accendiamo la nostra scacchiera della trasparenza a ricordate la porzione di immagine che era nera del nostro livello sfumatura fa in modo che le lucine siano trasparenti la porzione di immagine della sfumatura che era bianca fa sì che le minucine invece siano opache ho quindi creato la trasparenza questa è l'immagine che noi abbiamo utilizzato per generare la trasparenza su questa immagine ok in altre parole semplificando lo ripeto per chi magari non avesse ben compreso ho utilizzato questa informazione di luminosità per generare trasparenza su questo livello quindi quello che era nero qui è diventato trasparente qui quello che qui era bianco è diventato opaco o meglio è rimasto opaco in questa immagine è sfruttando questa informazione che io posso fare avere degli effetti fantastici per esempio torniamo al nostro esempio di prima quindi ho le lucine sempre e ho il video della ballerina al di sopra io voglio fare in modo che i pixel presenti in questa immagine più luminosi mi conservino l'opacità di questa immagine i pixel di questa immagine più scuri invece mi genere generino trasparenza bene imposto ancora una volta nella colonna mascherino traccia mascherino luma sul livello della ballerina ed ecco quello che accade con la scacchiera della trasparenza visibile in altre parole le porzioni di immagine più scure hanno trasformato le lucine in porzione trasparente mentre la i pixel più luminosi hanno fatto in modo che l'immagine sottostante sia rimasta opaca ok chiaramente quando andrete a fare il rendering non vedrete la scacchiera e come sapete bene vedrete lo sfondo di default della composizione in questo caso è il nero e otterrete quindi qualcosa di carino simile a questo in altre parole abbiamo scontornato la nostra ballerina e vi garantisco che scontornare questa ballerina utilizzando le maschere come abbiamo visto qualche lezione fa può essere molto complicato soprattutto se il soggetto in questo caso ha i capelli mossi in questo modo creare una maschera o fare il rotoscoping su questa immagine è sicuramente possibile però va fatta frame per frame e soprattutto qui impazzirete tantissimo perché scontornare in maniera efficace i capelli lunghi è veramente difficile guardate per esempio questi questi capelli così sottili ok è difficilissimo se non impossibile farlo con con le maschere invece sfruttando le informazioni della luminosità ecco vedete che facciamo questo lavoro praticamente senza perdere tempo pensate anche qui all'erba no che tra l'altro non è nemmeno a fuoco è sfocata scontornare questa questa immagine potrebbe essere richiedere moltissimo tempo e soprattutto va fatto frame per frame utilizzando la luminanza ecco che abbiamo ottenuto questo effetto praticamente in pochissimi secondi prima di andare avanti voglio farvi notare una cosa accendendo la scacchiera della trasparenza noterete come i pixel non sono completamente opachi in questa zona dell'immagine ma siano leggermente trasparenti perché ok perché chiaramente l'immagine originale che abbiamo utilizzato per generare la trasparenza non era bianca completamente o nera completamente ma ha delle porzioni di immagini dove la luminosità è compresa tra 0 e 255 o tra 0 e 100 se preferite no 0 la luce è spenta 100 la luce completamente accesa ci sono dei punti di questa immagine dove la luce è un po accesa è un po spenta quindi intorno ai 30 40 30 40 per cento come poter fare per correggere questo questo problema quindi come fare per fare in modo che questa immagine sia effettivamente opaca dove deve essere opaca e effettivamente trasparente dove deve essere effettivamente trasparente beh posso lavorare un pochettino con la color correction di questa immagine intanto la posso trasformare benissimo in bianco e nero perché tanto a me dell'informazione del colore in questo caso non interessa assolutamente nulla quindi applico l'effetto bianco e nero questa immagine e vedete che c'è del grigio il grigio è semi opaco ok è opaco al 50 per cento per dire no allora cosa posso fare per migliorare questo questo questa informazione di luminanza beh posso accedere per esempio ai livelli tra gli effetti applicare l'effetto livelli e posso fare in modo che il bianco sia effettivamente bianco guardate vedete sto aumentando l'informazione del bianco e il nero sia effettivamente nero ok ci saranno dei punti chiaramente ancora un pochettino non proprio diciamo bianchi o neri al cento per cento però ecco giocando con questi valori vedete che posso arrivare ok ad avere dei buoni risultati ora sto facendo questo lavoro molto rapidamente perdendoci un pochettino di tempo si può anche fare in modo che qui sia completamente nero ok però guardate già come cambia la situazione è accendiamo la scacchiera e noterete sì ok qui abbiamo perso un po di informazione dell'immagine leggermente opaca ok però questi pixel che non erano completamente opachi adesso lo sono al cento per cento voglio farvi vedere un esempio invece molto più pratico se lavorate con i titoli per esempio crea un nuovo titolo quindi control ti ricordate lezioni del modulo base di after effect creiamo un titolo d'esempio lo chiamiamo text andiamo ad allinearlo vado veloce perché sicuramente se avete eseguito il corso base sapete bene cosa sto facendo ecco questo è un testo bianco quindi ricordate quanto abbiamo detto prima il bianco diventa opaco il nero diventa trasparente prendo la solita immagine delle lucine e la metto al di sotto beh voi direte cosa c'è di strano beh sì in effetti il testo ha un canale alfa e quindi è giusto è normale che si veda così ma guardate cosa succede se io baso la trasparenza delle lucine sulla luminanza del testo quindi imposto il mascherino luma del testo sul livello delle lucine e guardate cosa accade ha un effetto interessantissimo praticamente ho mascherato il livello delle luci basandomi sull'informazione della luminanza del testo e questo ci permette di avere degli effetti sicuramente molto molto interessanti pensate a un testo che compare si ingrandisce ok qui è sufficiente per esempio centrare il punto di ancoraggio andare a scalare guardate che bell'effetto che si può ottenere ok animandolo correttamente potreste ottenere un effetto molto divertente per esempio questo guardate animiamo la scala e animiamo anche la posizione ok mettiamo un keyframe andiamo un pochettino avanti andiamo ad ingrandire spostiamo un pochettino tutto leggermente a sinistra guardate che effetto simpatico che potremmo ottenere del resto con pochi clic del mouse senza utilizzare maschere senza scontornare troppo senza perdere troppo tempo a lavorare insomma con con i keyframe ok guardate mando in play si può fare tutto meglio si può fare tutto in maniera più precisa però ecco l'effetto che abbiamo ottenuto praticamente ok potrebbe essere una transizione se volete intenderla in questo modo ultima cosa prima di lasciarci ricordate che noi stiamo sempre lavorando sulla luminanza quindi sull'informazione dei pixel quindi se avete un'immagine come questa per esempio potreste tranquillamente applicare l'effetto bianco e nero ok applicarla chiaramente all'immagine qui del anacolo qui bianco e nero sbagliato io vedete che l'immagine diventa in bianco e nero noi utilizzeremo di fatto proprio la luminosità quindi colori in realtà ci interessano poco e potremmo lavorare per esempio con i livelli per fare in modo che il nero sia nero completamente e il bianco sia bianco completamente vedete vado a in qualche modo esasperare un pochettino le cose ecco qui questo qui vedete vado a esasperare in maniera tale che il nero sia nero e il bianco sia veramente bianco ecco vado ad applicare su questa immagine in movimento il mascherino colore o meglio scusate il mascherino luma eccolo qui ed ecco che ho ottenuto un altro effetto molto simpatico e interessante basandomi sempre sull'informazione della luminosità contenuta nel negli alberi in questa foresta che abbiamo appunto importato questa ovviamente è un'introduzione stiamo rapidamente percorrendo e elencando alcune tecniche che se conosciute padroneggiate in maniera corretta e opportuna ci permetteranno di avere degli effetti e di realizzare degli effetti molto belli in after effect per questo sì è un modulo avanzato ma è comunque un modulo avanzato del corso base di after effect perché vi garantisco che di cose da vedere ce ne sarebbero un'infinità termina qui questa lezione io vi ringrazio vi ricordo www.fabbiambrosi.it lì c'è l'articolo di questa lezione cercatemi su facebook mettete un like alla mia pagina cercatemi anche su instagram e mi raccomando iscrivetevi a questo canale youtube condividete questo video con i vostri amici e mettete un like grazie al prossimo video tutorial ciao